Ancora una volta la società sportiva Sport Project ha fatto centro. Dopo l'appuntamento di qualche tempo fa legato alla sensibilizzazione e alla realizzazione di progetti inclusivi legati all'acqua con ragazzi disabili e con docenti formatori, questa volta, sempre in collaborazione con la piscina comunale della città di Bitonto, ha fornito il locus principale per la disputa di una tappa di triathlon. Un appuntamento molto importante, così come esplicatoci dal presidente del comitato regionale, Fitri Puglia. È una manifestazione particolarmente importante e che ha anche, dà un segnale molto forte. È la prima volta che posso cominciare a presentare le scuole che sono diventate una realtà di triathlon e ci troviamo proprio ospiti di una di queste scuole che è proprio Sport Project presso questa piscina. Hanno fatto un lavoro stupendo, sono rientrati all'interno dei parametri che stabiliscono quali sono, quali si rientrano come scuole italiane di triathlon e quindi per noi trovarci qua in questa manifestazione, in questo momento, è veramente una grande festa e un grande orgoglio. Ma acqua e natura vanno di peripasso perché in questo caso la Sport Project ha deciso anche di realizzare con la Samba un progetto rivolto alla conoscenza più approfondita del territorio circostante attraverso una passeggiata ed una pedalata nei luoghi del centro storico della nostra città per avvicinare ancora di più la cittadinanza alla natura. Lo spirito è quello di far conoscere ai bitontini il proprio territorio e di far conoscere le campagne e di far conoscere anche gli angoli meno noti ma più suggestivi del centro storico e diffondere conoscenza del territorio, diffondere buone maniere, diffondere anche l'idea essenziale e vincente anche per lo sport che è quella dello stare bene insieme. Ringraziamo anche tutte le associazioni e i sponsor che hanno consentito lo svolgimento della manifestazione. Una bellissima iniziativa anche perché sotto la regia del comune che si è svolto anche una passeggiata ecologica. Certamente le giornate estive aiutano fortemente questo tipo di iniziative che dovrebbero essere sempre più costanti e continue sia per lo sviluppo delle aree sportive in generale sia per la crescita continuativa dell'individuo. Grazie. 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 Grazie.